Oh, si può sapere che vuoi a quest'ora che mi sei chiamato? Fa abbiamo fatto la scelta giusta Il malto è fantastico Ma che prodottino? Profumo meraviglioso Miglioreremo tutte le birre facilmente con il malto buono E minimo ne faccio 20 diverse Ancora, ti ricordo che nel 2022 abbiamo fatto 53 birre diverse E chi sarà mai? La birra artigianale è fantasia Fantasia Sende sti Sende sti Sende sti Sende sti Sende sti Sende sti Grazie a tutti.